Buon appetito, l'ultima sera qua, va bene? Allora, guardiamo qui la nostra mina Alessia, oggi con il ciuffetto che va giù, brava, sì, carina, mi piace? Tutte mute, sono stanche questa sera. Avevo tanta calore e tanta fame. Tanta fame? Va bene, tanto ormai quel che sta fatto è fatto, anche se vi gonfia la pancia va bene lo stesso. Bene, qui abbiamo un altro tavolo, dove siete? L'anno. Dai, di chi sei così, non lo sappiamo. Buonasera. Buonasera, io sono un po' vicina. Fate un po' ridere, ragazze. Tu no, no, niente, non ci sei, basta che chiudi la bocca, anche se mangio va bene. Tutti l'abito da sera, poi dopo facciamo una panoramica dopo, anche le miss mangiano, non hanno ancora il piatto davanti. Sì, perché sono sempre tutti convinti che le miss non mangiano. Mi spavento che vi fermate. ce n'è sempre una che prendo di schiena, prego. Voi, vi ho già preso, no? No, un po' per volta. Ciao, ciao. Ciao. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, 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 bu ho trovato una che parlava si è fermata scusate ma non sono molte buonasera e mezza lasagna ritorno a taglio